Ma se ci sono decine di centinaia di migliaia di milioni di miliardi di persone che corrono a comprare la Ritmo, la Panda e la Regata me l'ha detto un mio amico concessionario della Fiat e poi in luglio ci sono 600 mila lire in meno per la Panda e addirittura un milione in meno per la Ritmo e per la Regata è come avere due anni di assicurazione incorporata alla macchina sono cose che lasciano senza fiato e poi noi certe cose non le possiamo dire Fiat di luglio non c'è di meglio quello te lo dice anche il ragionamento stesso Ciao! Grazie! 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 Grazie!